macro categoria imprese categoria servizi e consulenza il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione in leadership electronic supply chain e andiamo a leggere subito la motivazione che sta alla base di questo riconoscimento per aver confermato il livello di eccellenza nel settore della fornitura di merce e servizi ad aziende del comparto elettronico professionale e per aver intrapreso un percorso innovativo altamente tecnologico con lo sfidante obiettivo di supportare il sistema paese il premio va a wright 88 ed è un piacere avere qui con me alessio calabro sio di wright 88 che naturalmente invito a salire sul palco benvenuto alessio e questo è il vostro riconoscimento che ti do immediatamente grazie allora lo accogliamo ti faccio naturalmente accomodare poi è tutto tuo ti chiedo subito un commento a caldo per questo premio allora innanzitutto ci tengo a condividere questo premio con le persone che hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo quindi in primis il mio strategista il dottor fidanzi e il mio general manager il dottor maschio e tutti i miei dipendenti e sicuramente la mia famiglia che mi è sempre vicino e soprattutto mi ha dato la fiducia per essere l'amministratore per essere qui oggi e anche per un supporto ulteriore durante questi mesi sicuramente un po più complicati no certo anche se devo dire che noi in questi mesi siamo stati una delle poche società del lazio a essere stata dichiarata immediatamente dal prefetto società sistemica quindi abbiamo avuto la fortuna di non chiudere neanche un giorno non abbiamo utilizzato nessuna tipologia di ammortizzatore sociale non abbiamo messo nessun dipendente in cassa integrazione anzi ci stiamo sviluppando e stiamo crescendo e stiamo cercando nuove figure professionali insomma già questo di per sé determina proprio l'eccellenza del nostro territorio del sistema paese si parlava proprio del supporto al sistema paese questo sicuramente serve come serve così cerchiamo anche di capire come guardate al futuro da questo premio in poi mettiamola così dicevo com'è altrettanto importante essere voglio dire in primo piano e in prima linea nell'innovazione insomma in tutto ciò che è nuovo in tutto ciò che è lungimirante posso usare questa parola certo sicuramente il nostro settore è un settore dell'elettronica è un settore ad alto contenuto tecnologico noi partiamo da una storia di quasi 40 anni e siamo l'unica società in italia che è diciamo una vera e propria eccellenza sul reverse engineering in assenza di documentazione partendo da diciamo la nostra storia ci siamo evoluti e ora abbiamo fatto degli investimenti in tre grandi nuove aree un'area sicuramente è quella della robotica un'altra area molto importante è quella della realtà virtuale e poi stiamo facendo molti progetti di ricerca e sviluppo perché comunque in un momento di difficoltà credo che essere leader oggi del domani possa aiutare e essere diciamo di vantaggio competitivo non soltanto sulle aziende del nostro settore ma un po' su tutte le aziende del settore tecnologia in generale visto che abbiamo parlato di supporto per il sistema paese anche un modo per dare l'impulso giusto no tutto il paese che deve accelerare magari anche su alcuni processi quando si parla di tecnologia certo perché comunque ci sono molte sfide interessanti da un punto di vista tecnologico e l'italia è un paese che è un'eccellenza quindi non dobbiamo dimenticarci della nostra storia del valore che ha l'italia come paese e noi come italiani quindi crediamo molto in questo e la mia società si sta sviluppando negli anni e sta investendo in quei settori dove ci sono un po' delle lacune proprio a livello sistema paese quindi noi cerchiamo di andare a colmare e a riempire quegli spazi vuoti a livello tecnologico per essere un valore aggiunto per tutta l'italia ma infatti non a caso è stato usato lo sfidante obiettivo c'è un obiettivo che ha proprio una sfida alla base non indifferente questo sicuramente poi l'eccellenza dell'anno permettimi di dire in un anno come quello nel 2020 sappiamo cosa ha portato con sé quindi ancora di più complimenti questo te lo ridò grazie te l'ho fatto riappoggiare grazie complimenti alessio calabrossi o di raito 88 per questo riconoscimento grazie mille